Allora, innanzitutto dal momento in cui adesso sono un trapper Eschere boys, bitches, eschere Ma veniamo a noi, apprezzo molto il fatto che vi sia piaciuto il video, ci ho messo un sacco di energie La produzione è stata abbastanza professionale sia del video ma soprattutto dell'audio È stata professionale, sono contento Ma andiamo subito al sodo, voglio parlare di Let's Go in un'altra chiave più nuova Non perché ho cambiato idea Io ho espresso la mia opinione riguardo a Let's Go da giocatore pro player che gioca a PvP a ogni cosa Anche a solitario voglio giocare a PvP, chiamo un mio amico e gli dico facciamo a gara a chi lo fa prima Cioè, per dirvi, io gioco agli sparatutto, a Airstone, a Pokémon, a Scacchi Quindi, insomma, era un punto di vista particolare Quello che non ho ancora fatto è analizzare a livello proprio del marketing economico il brand di Let's Go E andremo a farlo proprio oggi perché effettivamente ha venduto un casino, ha avuto un successo Io me l'aspettavo che avrebbe venduto, l'ho detto sempre a tutti E c'è un motivo per cui ha venduto Una cosa che ci tengo a precisare e come è che il marketing di Pokémon Let's Go si dice Sia stato sbagliato, la comunicazione sia stata sbagliata dall'inizio alla fine Io non sono d'accordo, sono convinto che la comunicazione di Pokémon Let's Go sia stata perfetta Infatti ha venduto quello che ha venduto, ha venduto a chi doveva vendere E niente, in pratica è stato considerato come un core game Perché? Perché per fidelizzarti, te, e portarti su una nuova console Ti devo dire che è un core game, ok? Ti devo dire che d'ora in poi, come sta facendo Masuda Che d'ora in poi quella è la base dei prossimi giochi Pokémon Ti devo dire che non devi fare i breeding o le cose complicate Ti dico che è tutto semplice come in Pokémon Go Era quello il target Chi se ne frega degli altri, sapete perché chi se ne frega? Perché nel 2019 gli sparano un gioco bomba E glielo sparano, fidatevi Ringrazio Nintendo Italia per aver preso con molta professionalità il video di lamentare che ho fatto su Pokémon Let's Go Anziché magari lamentarsi di dire Oh ma cosa fai? Cioè ci spari merda addosso? No, in realtà mi hanno chiamato e hanno detto Oh Lore, tempo di cosa ti pare Alla fine uno esprime quello che vuole Volevamo sapere più che altro direttamente da te Visto che hai fatto un video così forte Cosa c'è che non va? Se ci sono dei malumori di confronti al gioco Mi hanno detto Oh quali sono i feedback negativi che ci fanno comodo Mi puoi dare anche qualche, non so, qualche contenuto E io magari gli ho detto Senti, magari le persone non interessate al brand sono queste Però comunque rimangono fidelizzate a Nintendo Magari non a Let's Go ma a Nintendo sì Anche perché voi vi state facendo il culo per fidelizzarle Per stargli dietro E ci state riuscendo perché comunque state prendendo un sacco di informazioni E niente, abbiamo una dirigenza che da parte mia ha una completa fiducia Ma proprio per come regiscono le cose Per come pensano, per come si muovono Per come si muoveranno Quindi grandi ragazzi, bravi E adesso arriviamo a noi Innanzitutto sappiamo che nei primi due giorni Pokémon Let's Go, Pikachu e Let's Go Eevee Hanno venduto 2,6 milioni di copie E hanno raggiunto i 3 milioni non in una settimana Ma in tre giorni, il 18 novembre Quindi il risultato è ancora maggiore E ancora più forte in tre giorni 3 milioni di copie Considerate che gli utenti di Pokémon Go Circa sono 5 milioni Un po' di più probabilmente nel corso degli anni Ma l'obiettivo è stato raggiunto Era quello E adesso proprio andiamo a ragionare del target Perché tutte le scelte sono state fatte in quella chiave Anche perché come Multiplayer.it ci fa notare I 5 milioni di utenti di Pokémon Go Non sono quelli totali Perché ne ha fatti veramente troppi Ma i 5 milioni di utenti Sono tuttora quelli che giocano E Pokémon Go fattura ancora qualcosa come 2 milioni e mezzo di dollari Al giorno da giugno 2018 Quindi diciamo che il target Che è uno dei più fruttuosi della storia del brand È proprio quello dei giocatori di Pokémon Go E come dargli torto a una compagnia Se ha una remunerazione del genere Se investe in una cosa del genere Ovviamente perché non facciamo un gioco Almeno una volta per quei giocatori Ne abbiamo fatti 3 milioni Tutti uguali Perché non portiamo almeno i nuovi giocatori Caso al gamer in un gioco più semplice Che ricalca Pokémon Go Detto fatto ed è quello il target Fortunatamente perché poi andremo ad analizzare I benefici che otterremo anche da questo Da portare in barca questo target Nel nostro club degli amanti di Pokémon La critica è stata piuttosto unanime Non è un giocone Non è un giochino Metacritic ha dato 79 su 100 Multiplayer.it ha dato 8.0 Quando magari i lettori invece davano 7 e mezzo di media Anche questo significa molto Vuol dire che la critica ha apprezzato un pochino di più Dei giocatori il titolo Quindi bisogna anche poi andare a vedere Chi è il giocatore che va a votare Perché magari quelli a cui è piaciuto il titolo Sicuramente non lo vanno a votare sulle recensioni Ma se lo giocano Comunque è un target diverso Che non è lo stesso target che si va a informare tutti i giorni online Ma andiamo avanti IGN gli ha dato 8.3 Anche se IGN sui giochi Pokémon Dal mio punto di vista non ha la minima autorità E anzi non dovrebbero neanche aprire la bocca Dopo il Too Much Water dato a Horus Con 8.3 è un ottimo voto I fan gli danno un pochino di meno 7.1 7.5 Anche questo un po' vuol dire Vuol dire che Non fa schifo a quel tipo di target Che va a votare online Perché se questo Gioco fosse piaciuto solo ai bimbi minchia Che giocano a casa senza informarsi Beh vi dare ragione Però quelli che vanno a votare in questi siti Non sono i bimbi minchia Sono le persone che da anni e anni Frequentano i siti E che si informano Quindi Questi sono risultati importanti Proprio della reazione del pubblico grande Di quello che fa parte dei club Delle community online Che è diverso Diversissimo dalla totalità E dalla grande maggioranza degli utenti Quindi Pokémon Let's Go Voleva vendere ai 5 milioni di utenti attivi Su Pokémon Go Hai 42 milioni Di copie Di Nintendo Switch vendute Tra aprile e settembre Quindi Neanche immaginare Quante sono le copie vendute a Natale Quindi Magari siamo a 50 A 60 milioni E neanche lo sappiamo Quindi Riempire Quelle Switch Di un contenuto Subito Perché comunque La vita della console Come è fatta Il primo anno Vive di rendita Perché è nuova È la novità nuova C'è il Zelda E vende sempre Il secondo anno Esce Escono tutti i giochi È un po' Un anno Che vai di rendita Dal primo Perché comunque Tutti quelli Che nell'iPad Hanno comprato la console Continuano comunque A investirci Perché comunque Li piace ancora Perché escono dei titoli Che stanno arrivando Finalmente Di titoli Che stiamo aspettando Mentre Il terzo anno È quello Più difficile Ok Quindi voi sappiate Che ora siamo nel secondo Fra poco Inizieremo nel terzo E solitamente Le aziende Nel terzo anno Vanno a droppare Le bombe Perché è l'anno in cui Tutto Tutto va in picchiata Tutto E allora cosa fai? Droppi la bomba Di Pokémon 2019 E sarà quella La bomba Sarà quella La bomba Perché sarà Boostata Sarà boostata Da tutta la gente Che si è avvicinata A Pokémon Grazie a Pokémon Go Avvicinata alla Switch Grazie a Let's Go E poi sarà tutta gente Fiderizzata Dalle dichiarazioni Di Masuda E andrà Poi A Esplodere Ci sarà una nuova rinascita Del brand Nel 2019 Nel 2020 Nintendo Italia Lo sa già Nintendo Lo sa già Pokémon Lo sa già Anche perché Questi sono magari Piani marketing Che sono stati fatti Anni fa E che provvedono I prossimi dieci anni Quindi Neanche a dire Il marketing Di Let's Go Fa cagare Anzi è l'opposto Ma ad esempio Cosa abbiamo perso E cosa abbiamo guadagnato Che è molto importante Io qui ho La lista E non sono dei quadrati Disegnati a suo giro Ah cosa abbiamo perso Innanzitutto Abbiamo perso Tutti i Pokémon Tranne i primi Ok va bene Le lotte Per la cattura Di Pokémon Quindi Il Il sistema di lancio È cambiato Abbiamo perso Le abilità Nell'uno Quindi L'1v1 O comunque Quasi Perché comunque Pardini sta facendo Un gran lavoro Con la Let's Go Cup Abbiamo perso Gli strumenti Una enorme cosa Nell'1v1 Abbiamo perso Molta difficoltà Perché comunque Ragazzi Le caramelle Sono sgrave Cioè Non ho da dire Le statistiche Che ottieni Con i Pokémon Caramellati Sono pazzesche La grafica Lascia desiderare Non sfrutta per niente L'anvidia Che Switch Ha dentro Il postgame È abbastanza pessimo Anche perché Per portare un metabu Da 75 E battere l'allenatore Lo devo mettere Nella sfera Poché Insomma Devo spendere Anche più soldi E la trama Come ho detto Non c'è Cioè È un remake Eccetera Cosa abbiamo guadagnato Però La cattura Finalmente è cambiata Perché comunque Sono 20 anni Che è sempre uguale È 20 anni Che la gente Si lamenta Che il sistema È sempre uguale Il primo di quelli È Croa Croa 89 Quindi Almeno cambia Gli spawn Quella è una cosa geniale Finalmente Non trovi gente Nell'erba grassa Ci ha dato sempre Fastidio Nell'erba grassa Finalmente Non trovi Pokémon in giro Nell'erba alta Ma li vedi E decidi Di andare incontro Poi I Pokémon Interagiscono Con te Nel mondo fuori Cioè I sali in groppo All'Onyx All'Rapidash Quelle cose Sono pazzesche Sono cose Che saltano subito All'occhio Sono quelle cose Che ti dicono Sai cosa Me lo compro Non conosco Uno di Pokémon Però andare a giro Sopra Un Ponita Mi garba E come Ok Poi Melle Si sono broken Le nature A scelta Sono una cosa Geniale Perché comunque Ci sono le chain Che ti possono Far prendere Pokémon perfetti Puoi scegliere Le nature Quindi andare a fare Una squadra nuova Ci metti di meno Ok Già è un passo avanti Per creare Nuovi Pokémon Quando Di competitivo Non c'è niente Quindi magari Stanno Non lo so Sperimentando Qualche Modalità Di generazione Dei Pokémon Le chain Appunto Per farti una squadra Sono ottime Cioè se chiunque Riesce a cenare Nel prossimo gioco E chiunque In una giornata Riesce a farsi Tutti i Pokémon Per una squadra È tanta roba Il competitivo È più accessibile Quindi tutti quelli Che in Pokémon GO Hanno imparato A fare determinate cose Nel Pokémon 2019 Le faranno meglio Le faranno Per il competitivo E ci sarà un'esplosione Enorme Del brand Quindi sì Il mio gang È bello E sì Voglio dire L'abbiamo presa male Come giocatori Come PvP Player Come Let's Go Però porterà Una marea Una marea Di utenze in più E se nel Pokémon Del 2019 È basato Sul PvP Io Divento Rhin E ci sto di lusso Voi diventate I fichi Della situazione Anche in Italia Dove si gioca Solo a FIFA Perché comunque Un gioco Così seguito Voi siete avvantaggiati Perché se si fa il PvP Con milioni e milioni Di persone Voi che lo giocate Da tanto tempo Siete avvantaggiati Ok Poi Se esplode Pensate Abbiamo una struttura C'è Cilurso C'è Pardin Ci sono io C'è Arash Ci sono un sacco Di iniziative In Italia Per il competitivo Pensate Se sarà nel competitivo Tutto viene indirizzato Nel competitivo Noi siamo Un martello Per indirizzare Le persone Per fare le guide E spiegare le cose Per rendere accessibile Un contenuto Quindi l'Italia Sarà al primo posto Anche nel Pokémon 2019 E infine Auguri di buon anno L'anno l'ho salvato io Droppando il mio pezzo Wrap Sono contento Non c'è di che Vi ho salvato il 2018 La cosa più bella Di questo 2018 Che palle Non c'ho voglia Di laccare il culo Agli utenti Però diciamo Cioè potrei dire Che questo 2018 È stato reso bello Da voi Che è vero Però è troppo smelato Quindi dico Vi ringrazio Perché Tutti voi avete Iscrivendovi Al mio canale Avete ammesso Che sono bello Fico E ganso Quindi bravi voi Siete stati intelligenti A fare la La scelta Giusta Buon anno bimbi Vi voglio davvero Tanto bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti